Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di Gioca con me, giochi per bambini. Oggi giocheremo insieme ad un'applicazione un pochino diversa da quelle che abbiamo visto insieme precedentemente. Si chiama Bottle Flip e si tratta di un'applicazione in cui si deve lanciare la bottiglia e farla atterrare, vedete, su questo ripiano, su questo gradino, verticalmente, quindi in posizione verticale, senza farla cadere, come sto facendo adesso. Ok. Vedi, oh cavoli è caduta! E quindi quando la bottiglia cade, quando il lancio non va a buon fine, si ricomincia da zero. Quindi si ricomincia da zero e si ricomincia a contare, quindi fino adesso il punteggio migliore è stato sette. Sono stati sette lanci che sono andati a buon fine. Vediamo adesso. Ok. Vedete, poi ci sono, ecco, infatti siamo caduti, ci sono poi dei gradini più piccoli, quindi insomma si fa più complicato il gioco. Non è sempre così semplice. È un'applicazione disponibile, ecco, siamo caduti di nuovo, disponibile per Android e iOS. Un'applicazione che si può giocare, a cui si può giocare nei momenti, nei momenti di pausa, che si può utilizzare, insomma, quando si ha, ops, si ha un attimo di tempo, non si sa che cosa fare, o ci si vuole distrarre un pochino. Ah, continuiamo a cadere, fino adesso il punteggio migliore è quello di otto, otto lanci andati a buon fine. Bottle flip, lancia la bottiglia. Ok. Perfetto. Ahia! Abbiamo mancato il gradino. Quindi adesso ricominciamo. Fino adesso i gradini sono più larghi, però adesso cominciano, ahia, ricominciamo. Poi si fanno più stretti. Mano a mano che si va avanti. Ha caduti di nuovo, quindi si ricomincia. Riproviamo. Magari a vederla così può, può non essere così entusiasmante, però se giocata, diciamo, in prima persona, può essere molto divertente o comunque essere una buona distrazione, un buon passatempo. Per potervi sfidare, per poter battere il vostro punteggio migliore, o anche quello di qualche amico. Ahia, caduti di nuovo. Poi dopo un po' la concentrazione comincia a calare, quindi... Comunque questo era bottle flip. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che l'applicazione vi sia piaciuta. Se il video vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi gratuitamente al mio canale, così da essere sempre informati sui nuovi video. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!